ciao bella gente e benvenuti in questo nuovo video spesso amici parenti ma anche molti di voi mi chiedono ubaldo è possibile avere una pec gratis e la mia risposta è sì in verità esistono due metodi per avere la pec gratis e ora ve ne parlo ma prima se ancora non siete iscritti al canale mi raccomando non dimenticate di farlo perché in questo modo soprattutto cliccando sulla campanellina non vi perderete video interessanti come questo poi se vi sono simpatico magari potreste lasciare anche un bel like allora ritorniamo a noi esistono due metodi sì il primo è offerto da nami real che ci offre il suo servizio di pec attivando le mail speed mail attenzione non è lo speed è un'altra cosa si chiama proprio speed mail questo è il sito sotto al video nella descrizione troverete il link quindi attivando il loro servizio speed mail sarà possibile ricevere un indirizzo pec gratuito per sempre dove sarà possibile ricevere le mail e certificate per sempre però perché c'è sempre un però ogni volta che deciderete di inviare un email dovrete pagare c'è la tariffa sul loro sito io non me lo ricordo mi sembra che era un euro e qualcosa un euro e 90 però ripeto vi conviene andare a controllare direttamente se non erro in questo periodo si trova una promozione che dice che attivando la loro email riceverete gratis anche 3 di certificati quindi credo questo servizio sia utile soprattutto a chi ha l'esigenza di ricevere email tramite pec e magari invia un email o due mail all'anno allora in questo caso può prendere in considerazione questo servizio il secondo metodo è offerto da email.it che attraverso una registrazione sul loro sito questo qui sotto al video trovate il link vi permette di avere un indirizzo pec gratuito per sei mesi un indirizzo completo che vi permette di inviare e ricevere email certificate per tutta la durata del periodo alla scadenza di questo periodo il servizio sarà disattivate sarete solo voi a decidere se continuare o no ovviamente pagando però avete la possibilità di utilizzare il servizio per sei mesi provarlo e inoltre anche un servizio adatto a chi ha l'esigenza di avere una pec per un tot di mesi 4 5 6 mesi massimo dopo di che dovrete sganciare i soldini spero che questo video vi sia stato utile in tal caso se ancora non siete iscritti al canale non dimenticate di farlo e non dimenticate di lasciare un bel pollice in su non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su youtube ciao a tutti